Stadio Passen ha chiuso e Battipagliese costretta ad emigrare a Buccino per giocare la prossima partita di campionato e quanto scaturito dall'attività di controllo compiuta da Inas di Salerno presso la struttura. I militari hanno eseguito una verifica all'interno dello stadio, rilevando non solo carenze strutturali, ma anche la mancanza di un piano antincendio e del certificato di agibilità. Immediata la richiesta di provvedimenti alla sindaca Cecilia Francese, che ha disposto la chiusura in via provvisoria dell'intero impianto in attesa che venga predisposta la segnalazione di inizio attività quale titolo abilitativo dal punto di vista antincendio e la successiva dichiarazione di agibilità.